Tutti d'accordo, bisogna fare di più per tutelare i cittadini del territorio. I dati sono inequivocabili, specie nelle zone a nord della provincia di Salerno i malati di tumori aumentano di anno in anno e l'aspetto ambientale è sempre più sotto osservazione. Ecco perché si è deciso di riqualificare il registro tumori della provincia grazie alla sinergia tra l'assessorato delle politiche sociali di Palazzo Sant'Agostino, la regione Campania e l'asle di Salerno. Il nuovo registro raccoglierà i dati relativi ai malati di tumori della provincia per analizzarli e capire quanto e come l'inquinamento atmosferico, dovuto soprattutto alla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, così come alla contaminazione delle acque, abbia inciso o potrebbe incidere ancora sulla salute dei cittadini. Provare a ridurre l'impatto ambientale è fondamentale affinché si possano cominciare a ottenere risultati per la lotta ai tumori. Dal nuovo registro emergeranno i dati di mortalità, incidenza e sopravvivenza ai tumori e potrà quindi questo rappresentare lo strumento principale indispensabile per approntare interventi di prevenzione. Le attività collegate al progetto di riqualificazione del registro sono svariate, tra queste l'osservazione dal punto di vista epidemiologico dell'andamento spaziale e temporale del numero dei nuovi casi tumorali che si verificano nella popolazione di Salerno, quantificazione a curata delle patologie oncologiche in ambito provinciale. Con il nuovo registro dei tumori poi si entrerà in un sistema di rete regionale nazionale, così come voluto dal Piano Oncologico Nazionale 2011-2013. L'amministrazione provinciale ha svolto un lavoro importante negli anni, per esempio proprio sul registro tumori. Si tratta ora di mettere in campo, una volta fatta l'analisi, la terapia, risolvendo quei fenomeni che, come dimostrato, vanno a comportare questa fortissima incidenza di neoplasia che c'è in questa area della provincia di Salerno. Bisogna trovare le risorse, dico io, non per fare convegni ma per fare interventi. Conoscendo bene i miei problemi mi compenetro anche nei problemi degli altri enti. Molte volte non è un problema di volontà, è un problema di possibilità, perché rimediare ai gravissimi guasti portati al territorio in passato non è cosa facile. Per esempio il risanamento del fiume Sarno, che adesso si è avviato a conclusione negli interventi, ha richiesto anni e anni di applicazione perché non si erano prese le dovute precauzioni. Però, dicevo, al di là della mia mancanza di competenza scientifica, perché non sono un medico, ritorno sul concetto. Preservare il territorio significa preservare il nostro futuro, preservare la nostra salute. Abbiamo dei prodotti tipici nell'agronocerino sarnese, particolarmente apprezzati a livello internazionale e che rappresentano la base, il presupposto della nostra dieta. Siamo quello che mangiamo. Se abbiamo una terra, un'area, un'acqua che sono inquinati, poi quell'inquinamento finisce nei nostri corpi e purtroppo determina queste tragedie familiari ed umane che tutti quanti dobbiamo purtroppo affrontare.